Con il contributo di circa 40 attori e figuranti, Ornano Grande di Colledara dà vita a una narrazione avvincente della durata di circa due ore dedicata alle ultime vicende della vita di Gesù Cristo, della vita terrena di Gesù. L'arrivo a Gerusalemme, l'ultima cena, il tradimento di Giuda nell'orto degli Ulivi, la condanna di Ponzio Pilato, il Calvario, con le varie tappe fino alla scena della crocifissione e resurrezione. La manifestazione è curata da Giovanni De Dominicis. Una manifestazione che si fa ormai da dieci anni, alla quale intervengono tutti, dai bambini alle persone più anziane. Ripercorriamo tutto l'evento con l'arresto di Gesù, i vari processi, la flagellazione. Tutto questo grazie a tutti i partecipanti che ogni anno rinnovano la loro passione è per far sì che questa manifestazione vada ancora avanti ed è sentita da tutti praticamente. La rappresentazione vivente della Passio Cristi è promossa dal comitato organizzatore con il patrocinio del comune di Colledara, in collaborazione con il Circolo Culturale Ornano Grande, la Proloco di Colledara, il gruppo Alpini di Ornano e la parrocchia di San Giorgio. Fortunatamente abbiamo delle persone che si impegnano ogni anno per questo evento. Li ringrazio a nome dell'amministrazione e a nome di tutta la comunità e spero che col passare degli anni possa solo che incrementare quello che è già una visibilità a livello locale.